Martedì 7 marzo, buongiorno da Gabriele Silvestre della redazione, benvenuti al nostro spazio, consiglio dedicato all'informazione con la rassegna stampa nazionale, ultimora poi dal web con le ultime notizie, andiamo a vedere i temi principali sulla prima pagina di Repubblica, troviamo lo scandalo dei rimborsi Unione Europea, ecco gli italiani sotto inchiesta al vertice dei quattro big avversari, sì all'Europa a due velocità, sono i partiti europei che vogliono abbattere l'Europa, i protagonisti delle inchieste per frode ai danni delle casse del Parlamento europeo, ci sono anche gli italiani. Bonanni scrive, i furbopopulisti, la badante della madre del leader polacco Kaczynski, spacciata per assistente parlamentare e i finti assistenti dell'FN di Le Pen. E questi sono i dettagli sottolineati sul tema, gli altri temi che troviamo su Repubblica, costo del lavoro, il piano dei tagli in busta da 300 a 800 euro in più, il cuneo fiscale ridotto per i nuovi assunti, il piano del governo prevede una riduzione di 4 o 5 punti del costo del lavoro a partire dal 2018, uno scontro sui contributi per i giovani neossunti con il taglio del cuneo fiscale da 300 a 800 euro in più. La lettera, caro Renzi, cambia mare se vuoi restare il capitano, scrivono Sergio Chiamparino e Giuseppe Sala. Caro direttore, viviamo mesi cruciali e difficili al tempo stesso. L'Europa è attraversata da tensioni fortissime, di cui vedremo risvolte negli appuntamenti elettorali che interesseranno quest'anno anche i due più importanti paesi, l'Unione Europea, cioè Germania e Francia. Soffia impetuoso il vento della contestazione critica del no a tutto e tutti. In Italia negli ultimi anni un solo partito si è fatto carico quasi interamente della responsabilità di governo su scala nazionale e locale ed è il Partito Democratico. Le indagini consi per Romeo Tace dal GIP, scoperto il mister X che incontrò Tiziano Renzi. Poi ancora centropagina Islam, Trump chiude le porte a sé paesi ma salva l'Iraq su Obama guerra totale tra il presidente e l'FBI. Il pezzo poi di Roberto Saviani, il racconto Uomini e caporali nella Puglia che brucia perché i fatti di Sansevero sono una sconfitta per la coscienza di tutti noi. Lo scorso novembre sono stato a Foggia, scrive Saviano, invitato dall'università. Arrivo e vengo sommerso dal racconto di un territorio piegato, dalle azioni continue della criminalità organizzata locale, sommerso dal grido d'allarme di un territorio in guerra, di un territorio esausto, di un territorio che non è raccontato dai media nazionali se non in casi rarissimi, se non quando è praticamente impossibile tacere. La politica locale nel Foggiano è sola, i sindaci affrontano quotidianamente un'emergenza criminale che è diventata ingestibile. Tutto ciò che è accaduto nei scorsi giorni lo sappiamo, vale la pena però collegarlo a ciò che accade nel Foggiano quotidianamente. Il granghetto sorto tra Sansevero e Rignano Garganico era una bar a copo di cui vivevano i braccianti immigrati che lavorano nelle campagne pugliesi. Erano iniziati le operazioni di sgombero quando nella notte tra il 2 e il 3 marzo è scoppiato un incendio. In dettaglio basso, sul treno dei ricordi con i malati di Alzheimer, Valerio Millefoglie scrive. Benvenuti a bordo del treno 5166, il treno fermerà a Busseto, Villanova, Darda, San Giuliano Piacentino, Castelvetro e arriverà a Cremona alle ore 10 e 19. Non stiamo andando da nessuna parte, ci troviamo nell'ambulatorio di cure non farmacologiche, l'Aquilone, a Grumello sul Monte in provincia di Bergamo. Vagoni, annunci dagli altoparlanti, stazioni, paesaggi, tutti simulati per aprire le varchi nel passato dimenticato dei malati e dare sollievo ai sintomi del morbo. Siamo andati con loro. Il calcio resta a Tavecchio, rieletto il presidente della Federazione Gioco Calcio. Grazie al gol degli arbitri, al prossimo scandalo che ci indignerà tutti, il calcio italiano ha scelto di arrivarci ancora con Carlo Tavecchio, presidente, battuto lo sfidante a Bodi con il 54% dei voti. Continuiamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del Corriere della Sera. Romeo in cella senza prove, così portò il denaro all'estero. Sono otto le segnalazioni esaminate dalla Guardia di Finanza sulle movimentazioni bancarie disposte da Alfredo Romeo, operazioni sospette su conti correnti personali e su depositi intestati alle società di famiglia. L'imprenditore arrestato per corruzione ieri si è rifiutato di rispondere al GIP. Il retroscena alla politica italiana, Renzi pensa al voto nel 2018, archiviata l'ipotesi delle elezioni anticipate, ora l'ex segretario Matteo Renzi si sarebbe convinto che il governo può arrivare al 2018. Il cambio di passo dopo aver sentito il presidente del Consiglio Gentiloni dire in TV che è pronto ad abbassare le tasse per aiutare la crescita. La questione morale fu orbizza del buon politico. Tiziano Renzi e Luca Lotti non sono colpevoli, lo dice la Costituzione all'articolo 27 che aggiunge, sino alla condanna definitiva. Nel nostro caso il processo non è ancora nemmeno cominciato, non è neanche sicuro che cominci mai contro due politici indagati perché prima ci vuole un rinvio a giudizio. E' bene ricordarlo come ha fatto su questo giornale l'avvocato Giuliano Pisapia, uno dei pochi in Italia che riesce a non dimenticare la legge anche nel pieno della mischia politica. Questa avvertenza vale come principio teorico ma anche come fatto storico, non sarebbe infatti la prima volta che dei politici finiscono in un'inchiesta su Romeo e ne escono puliti. Accade a Napoli nel 2008, quattro assessori nella giunta Iervodino furono arrestati e un altro, Giorgio Nunes, si tolse la vita perché accusati di aver favorito l'imprenditore nell'assegnazione di un appalto comunale. Le accuse caddero in parte nei due gradi di giudizio, del tutto in Cassazione che annullò la sentenza senza rinvio parlando di vuoto probatorio e di deduzioni generiche perché enunziate ma non dimostrate. Tutto questo non per sminuire la portata dell'attuale inchiesta Consip e le ombre pesanti che proietta sul sistema di appalti pubblici ma anzi per dire che non c'è davvero bisogno di aspettare che la giustizia faccia il suo corso per vedere quanto diffusa e ormai quasi accettata sia diventata la commissione tra affari e politica nel nostro paese, innanzitutto nel partito di governo, il Partito Democratico. A centro pagina, calo record delle nascite, l'Italia mai così vecchia, triplicato il numero di chi sceglie di lasciare il paese. Età media di 44 anni e 9 mesi, le donne più longeve nel 2016 sono state le trentine. Mai così pochi bambini nati in Italia, 474 mila nel 2016, secondo l'Istat ancora meno dei 486 mila nel 2015. La fecondità è ridotta a 1,34 figli per donna, mentre l'identikit è quello di un paese più vecchio, 44,9 anni di media e più longevo, primato alle trentine, triplicati i trasferimenti all'estero. Troviamo poi la questione del fine vita, preghiera per Fabo. Galantino svolta un atto di rispetto venerdì, il saluto della sua parrocchia di Milano a Fabo, il DJ che ha deciso di morire in una clinica in Svizzera. Un incontro di preghiera, non un funerale. Monsignor Galantino rispetto per il dolore. Dieci anni fa fu negato il funerale a Welby, accostamento improprio. A centropagina, aperta un'inchiesta dopo la diffusione di un video sul rogo di Rignano, quelle risate mentre il granghetto bruciava, mentre le baracche del granghetto di Rignano Garganico vanno a fuoco, senza lasciare scampo a due emigrati nel sottofondo di un video si sentono distintamente delle risate per la polizia. Le due immagini rilanciano la pista del riccedio doloso. Verso l'8 marzo, la forza semplice delle ragazze, Barbara Stefanelli scrive, il 2017 doveva essere l'anno di Hillary Clinton, quello del dragone rosa shocking che infrangeva il tetto di cristallo alla Casa Bianca in diretta globale. Il magazine americano di Atlantic, che fino alle elezioni di novembre aveva anticipato con successo ogni passaggio della contemporaneità al femminile, compreso quel profetico perché le donne non possono ancora avere tutto, che stabilino un record di vendite per la testata, pronunciava e temeva anni di misoginia pubblica, giustificati da qualunque riflesso fastidioso fosse arrivato sulla terra dallo scettro agitato lassù da Mrs. President. Una proposta concreta spinta al lavoro dal fisco. La partecipazione al lavoro femminile è pari in Italia al 47%, contro una media di circa il 60% nei 28 paesi dell'Unione Europea. Peggio di noi soltanto la Grecia, in Germania il 70% e in Svezia si arriva al 74%. In compenso le donne italiane lavorano in casa il doppio degli uomini, circa 40 ore contro 20 per settimana. Insommando il lavoro in casa e fuori, la differenza totale è di mezz'ora in più per le donne. Sembra poco ma ha moltiplicato per 365 giorni. L'anno sono circa 23 giorni lavorativi di 8 ore. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa per noi, torniamo con gli altri giornali, le notizie dal web a fra poco.